Possiamo iniziare questo stare insieme con un ricordo del popolo di Israele che ricordava la Pasqua, quando la famiglia ebraica si metteva a cena per la festa della Pasqua, il rito prevedeva che il figlio minore facesse una domanda al padre, quindi come proprio un rito di chiesa e quindi faceva la domanda che cosa significa questa cena, questo stare insieme questa notte e il padre rispondeva ricordando l'evento dell'ultima cena degli ebrei in Egitto e nello stesso tempo noi dobbiamo dire che ricorda che Gesù prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse prendete e manciatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. La Chiesa nasce così, però è bene precisare che la Chiesa non è un'organizzazione burocratica governata dal principio dell'efficienza in cui vivono rapporti puramente funzionali, è una comunità di persone che fanno un cammino di fede e in sintonia con la prima comunità cristiana, concretava tutta la prima comunità cristiana sulla parola di Dio, la vita equaristica e spezzare il pane con i fratelli. La Chiesa voluta da Cristo è paragonata al mistero del Verbo incarnato, del Verbo incarnato sappiamo bene che la gente non vedeva granché in Cristo Gesù, vedeva l'uomo Gesù di Nazareth, ma non che fosse il figlio di Dio. La stessa cosa si verifica con noi, noi vediamo della Chiesa la sua umanità, vediamo poco della sua grande spiritualità di Cristo Gesù che sta in mezzo a noi, la Chiesa vivente. Aspetta a noi cristiani allora far capire, far comprendere che cos'è veramente la Chiesa. La Chiesa è creare la santità nella famiglia, nell'ufficio, sul posto di lavoro, nei quartieri, nella politica, ecco cioè estrinsecare la santità della Chiesa di Cristo, estrinsecarlo mediante i cristiani nella vita comune. La Chiesa, madre che accoglie i peccatori, la Chiesa in sostanza è madre di santi e di peccatori. Nel suo grembo che genera Gesù di Cristo nuove figli a Dio e la madre che accoglie figli che si erano allontanati sperperando i doni della grazia. La Chiesa è lo strumento perché tutti gli uomini raggiungono la comunione con Dio. Padre Pio, convinto di essere membro vivo della Chiesa, non si chiude in se stesso, magari nella contemplazione di Dio, nella preghiera intima con Gesù. No, pensa principalmente alla salvezza dei fratelli. Il suo tempo, le sue malattie, le incomprensioni dei lontani, ma principalmente degli amici, tutto ciò che lo faceva servire, soffrire, è impolarizzato per la salvezza delle anime. Possiamo citare la limitazione di tante iniziative di Padre Pio. Lo stesso confessare era limitato nella confessione perché non si credeva nella sua spiritualità, tante sofferenze. E Padre Pio cosa diceva? Dolce è la mano della Chiesa perché quando ci percuote è sempre la mano della mamma che percuote.